un momento meraviglioso c'è un vento questo lo dedico a Davide super qualità meraviglioso un po' di tre perfetti una superissima come sono foresti un po' eccezionale eccezionale un po' eccezionale mi piace ragazzi un po' eccezionale anche un momento meraviglioso anche un momento meraviglioso salutiamo Bruno Telosi questo tombolotto nooo che qualità oggi ragazzi guardate come sono sani come sono sani guardate dai che si continua 8 ottobre 2021 che meraviglioso wow momento magico oh che meraviglia che qualità bellissimo cerro ragazzi sentite che vento ma che giornata questo questo un rosso wow che bomba bello sano ancora incredibile merito un bacio che rosso che rosso ragazzi wow meraviglioso no ragazzi attacchi di panico quando l'ho visto che porcino è che bestia è nooo nooo che gambo questo questo è mezzo chilo sicuro e anche sano incredibile wow iscrivetevi al canale ragazzi iscrivetevi guardate che meraviglia che bestia incredibile non avevo visto questo tutto sotto la roccia tutto sotto la roccia wow poi sai avevo visto quello grosso e sono rimasto abbagliato ma dietro guardate cosa c'era anche oppala qua dietro cosa c'è vediamo qua figlio bello fresco oh che gambo wow wow poi vediamo c'è ancora tanto bosco da guardare bene questi sono i due figli che meraviglia ragazzi cerro cerro spettacolo ragazzi che momenti il vento della madonna ma c'è c'è per dei porcini così anche se finisce a piovere mi bagnerei questo tutto nascosto voleva scappare eh che cosa hai visto wow wow che meraviglia che meraviglia che tipo di bambini questo bambino è che bellissimo il vento ecco ho staccato questo porcino in questo momento ed anche veramente e affinché ma che meraviglia che momenti aggettivo libero super super meraviglioso eh ragazzi un momento emozionante allora questi due questa bella coppia non ho rotto la testa però guardate che meraviglia questo è meraviglioso allora con questo ultimo porcino io vi saluto davvero splendido un saluto anche alla Silvia iscrivetevi al canale alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti